Siamo con Antonella Buscaglia, consigliere comunale a Biella del Movimento 5 Stelle. Un risultato, queste elezioni, forse all'inizio un po' inaspettato, però già dopo il primo turno il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di avere una chance forte per riuscire su città grandi come Torino e Roma di arrivare al massimo della possibilità amministrativa della città. Certo, allora, inaspettata fino a un certo punto, nel senso che si sta notando nel Paese comunque una certa voglia di cambiamento in tutti i campi, soprattutto nella politica in queste grandi città dove c'è sempre, c'è stato anche un'alternanza in passato, sia di sinistra che di destra, che hanno reso le città quelle che sono diventate ora. Parlo di Roma soprattutto, Roma ha avuto dei disastri in passato, sia portati da una parte che dall'altra, quindi mi sarei stupita molto se i romani non avessero votato un'alternativa credibile come la Raggi. Diverso in Torino perché comunque non si è notato questa distruzione della città fatta dalle precedenti amministrazioni, però io ci credevo, anche Giovanni, comunque il mio collega in Consiglio Comunale, già due mesi fa diceva che ce l'avremmo fatto anche a Torino e non aveva torto. Probabilmente le persone, i cittadini si stanno accorgendo che noi siamo credibili, non siamo più soltanto come era inizialmente un movimento politico di protesta, ma stiamo diventando concreti e lo stiamo dimostrando in tutte le città che stiamo amministrando, da Livorno a Parma, quindi i cittadini ormai hanno visto, soprattutto quelli del Piemonte che sono sempre un po' più schivi ai cambiamenti, hanno visto che comunque qualche risultato riusciamo a ottenerlo e anche dei buoni risultati, riducendo il debito, perché comunque non è che si guarda soltanto l'aspetto di decoro pubblico, di decoro urbano, ma si guardano anche i programmi. Probabilmente a Roma è stato anche molto incisivo il fatto che non avesse voluto che la RAGIS, forse è anche il movimento, che in tutta Italia si è dichiarato contrario alla candidatura e alle Olimpiadi qui in Italia. quindi secondo me è stata una botta veramente importante per il nostro movimento, ma anche per i cittadini che vedranno, perché io ne sono convinta, che il movimento in queste grandi città amministrerà bene, come sta facendo già nelle altre città. Ecco, consigliere Buscaglia, un movimento che possiamo definire ancora giovane e quindi i politici, diciamo, navigati dicono, eh beh, ma loro non sono presenti su tutto il territorio come i partiti, però chiaramente bisogna crescere e bisogna costruire. Certo, beh, diciamo che il movimento è sempre più presente, perché comunque non avremo ancora forze politiche, forze del nostro movimento in tutti i comuni d'Italia, comunque siamo sempre, diventiamo sempre di più, sempre più numerosi nei comuni, quindi direi che arriveremo anche ad essere in tutti i comuni italiani, ma di sicuro. Poi sapete benissimo che una delle politiche del movimento è stata la riduzione dei comuni nel di sotto dei 5.000 abitanti. Diciamo che su certi tipi di comuni probabilmente il movimento è anche meno interessato, perché comunque siamo sempre stati assolutamente contrari alla frammentazione proprio così esagerata dei comuni, che sono comunque importanti, perché rappresentano comunque una buona fetta della cittadinanza, però comunque per noi è sempre stata una crescita in tutti i sensi, sia a livello di appoggio comunque dei cittadini della nostra politica, ma anche proprio di capillarizzazione del nostro movimento. Quindi stiamo crescendo, siamo giovani, però ben motivati. Probabilmente anche un centrodestra frammentato, come è accaduto a Roma, ha lasciato spazio e senza un apparente impegno, però forse una mano ve la data. Beh, può essere, può essere, però come avete visto la frammentazione nel centrodestra per esempio a Torino non c'era, quindi non lo darei proprio come scontato il fatto che sia il centrodestra o i moderati, come dicono, che cominciano a votare il Movimento 5 Stelle, cioè il Movimento a Torino, le scorse amministrative, nel 2009 era il 5,60%, infatti sono entrati due consiglieri in Consiglio Comunale a Torino. Dal 5 andare a finire al 56%, io mi chiedo quel 50% da che cosa è composto e non ci credo che è composto soltanto dal centrodestra. Sicuramente ci sono state delle persone che hanno deciso, ma coscientemente, di cambiare dal centrosinistra da Fassino a Movimento. Il Movimento è un insieme di passati politici, di persone che si sono stufate e hanno visto che non trovano più nel partito quello che una volta li accontentava. Ormai non c'è più, i partiti non ci sono più e sarà sempre peggio per i partiti tradizionali. Infatti proprio in città come Novara, dove chiaramente non avete vinto, però come Torino, dove ci sono dei candidati storici, diciamo, appartenenti dei partiti, dove addirittura un Fassino poteva essere candidato a Presidente della Repubblica e la gente è un po' stufa di vedere sempre le solite persone, le solite figure al centro dell'amministrazione, al centro diciamo del potere politico e amministrativo. Perché poi sappiamo bene che da un'amministrazione pubblica, da un'amministrazione comunale, poi ci sono mille, diciamo, rami, rametti che vanno a finire sulle municipalizzate piuttosto che sulle fondazioni e quindi è proprio una ragnatela poi di potere che si viene a creare. Certamente, ed è una cosa che nel movimento per esempio non esiste, cioè nel senso, le spiego, quello che si noterà adesso, si vedrà che i candidati che non hanno vinto al ballottaggio andranno e ritorneranno in Parlamento. Questa incoerenza comunque, si vedrà, perché Giacchetti cosa andrà a fare? Il consigliere comunale, la Meloni la vede come consigliere comunale, no, loro torneranno in Parlamento, magari la Meloni tra un annetto quando finirà la sua gravidanza e quindi, cioè, il cittadino vede che c'è proprio un distaccamento tra la politica e la città, quindi vuole delle persone che hanno dato e danno il loro rapporto all'interno della città. La Raggi era consigliere comunale, Appendino lo stesso era consigliere comunale, quindi i cittadini si sono stancati di dover guardare davvero gli interessi politici, perché comunque uno che è stato in Parlamento, per esempio noi avremmo avuto l'opportunità di candidare a Roma a Di Maio, avremmo vinto al primo turno. Il problema, anzi, il nostro vanto, non il problema, il problema per gli altri, è che comunque quello che facciamo, quello che i nostri candidati sono nati, cresciuti e tengono a quella città, quindi rimangono in quella città e non è come gli altri candidati, quindi è anche una questione di coerenza con quello che si fa. Il fatto comunque anche che un movimento mette in sospeso un sindaco perché non ha detto, per esempio, che c'era un avviso di garanzia a suo nome, opinabile, diciamo quello che vogliamo, però comunque ci sono delle regole fisse che il movimento comunque segue, anche a volte ha proprio svantaggio, perché a volte ci escono delle cose, un giorno, due giorni dalle elezioni che magari ci fanno calare nei sondaggi, perché noi vogliamo essere coerenti e sicuramente la coerenza sarà anche questa, andare avanti a lottare per queste cose di cui parlavi tu, cioè nel senso le municipalizzate, cercare di togliere il controllo politico, mettere il controllo del cittadino che è diverso, perché il cittadino pensa alle proprie interessi, mentre la politica pensa agli interessi della politica che sono totalmente cozzanti l'uno con l'altro.